Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto dal titolo come ogni venerdì la guida su come fare soldi questa settimana sfruttando appunto i bonus che Rockstar mette ogni giovedì quindi questa settimana hanno aggiunto una nuova modalità che appunto è l'assalto al Forza Ancudo e insomma alla porta aerei molto molto bella si può avviare tramite un'icona vicino Forza Ancudo un'icona rosa altrimenti verrete invitati devo essere onesto mi è piaciuta e quindi ve la consiglio e adesso vi spiego bene come funziona come al solito iscrivetevi al canale se siete nuovi gruppo telegram più grande in Italia in descrizione quindi mi raccomando entrateci quindi allora per fare soldi questa settimana ci sono i bonus sull'hangar in particolare questo tizio qua che si chiama Rooster ce l'avrete tutti quanti se possedete un hangar vi fa fare soldi in maniera passiva da questa settimana e solo per questa settimana facendo un recupero carico aereo cioè lui fa il recupero al posto vostro vi recupera due casse ci mette circa 25 minuti insomma e vi costerà 25 mila dollari e una volta appunto che l'avete avviato potete andare a fare altre attività così nel mentre produrrà in maniera passiva un'altra attività che vi consiglio è la prova a tempo di AO se siete su next gen perché vi da 250 mila dollari quindi come al solito lo avviate mettete la meta e potete partire sono estremamente facili se non avete ancora la guccio drag ragazzi è assolutamente da comprare questa settimana la trovate come veicolo a special all'interno dell'autoraduno perché appunto ogni settimana avete 250 mila dollari garantiti quindi ve la ripagate subito quindi come funziona la nuova modalità come vedete tenendo premuto freccia destra dopo che insomma vi siete buttati vi darà gli obiettivi che vi pagheranno in più quindi già c'è una paga di base in più facendo queste cose per esempio elimina tre giocatori un corpo a corpo che è abbastanza difficile oppure se no elimina tre marine oppure distruggi tre terminali vi da ecco dei bonus che sono tipo 30 mila dollari a obiettivo quindi non è per nulla male e potete fare questa attività come vedete veramente facile io purtroppo qua mi dipendico sempre di mettere la mira automatica quindi è stato un po' più diciamo facile anzi difficile in realtà però magari più facile perché gli altri che c'erano insomma non erano molto forti e purtroppo nella mia squadra stavo giocando solo io perché gli altri stavano facendo tipo non lo so assalto alla fortezza così a caso in realtà lo scopo appunto è violare i terminali A e B e la squadra che difende dovrà insomma impedirvi di disattivare questi terminali e insomma una volta che li avete disattivati dovrà provare appunto a riattivarli ecco quindi dovete disattivare A e B insieme tutto qua così che vi sbloccherà le altre cose e poi infine andare a rubare le robe sulla porta aerei quindi insomma come vedete distruggere i trasmettitori sulla porta aerei anche in questo caso le bombe adesive mi raccomando perché in altri modi io non ci sono riuscito quindi come vedete mi ha dato il bonus di 30 mila dollari dato che era uno degli obiettivi e come vedete visto che stavo giocando solo insomma quindi ero da solo contro 6 in poche parole ho guadagnato pur perdendo quanto i vincitori i vincitori hanno preso 146 mila dollari mentre chi ha perso ne ha presi 40 mila però considerando tutti i bonus ho guadagnato uguale a loro tipo 136 mila dollari quindi veramente tanto per fare questa attività che non vi nego è veramente divertente mi è piaciuta e se avessi avuto più tempo me ne sarei fatta un'altra tranquillamente diciamo che una partita intera dura un quarto d'ora proprio diciamo strecciandola un sacco se avete una squadra che diciamo gioca e collabora con voi anche di meno però se ovviamente giocate da soli e gli altri cazzeggiano ci mettete anche 20 minuti abbondanti però per appunto 150 mila dollari secondo me ci sta tantissimo e se considerate che la squadra che appunto vince prende 140 mila dollari più i bonus quindi circa 90 mila dollari si fanno tranquillamente più di 200 mila dollari con questa attività in poco tempo e vi ripeto è veramente divertente quindi se volete un consiglio fatela ho letto online su reddit gente che ha giocato a gta online con questa attività per un po' di tempo tipo che ne so un'oretta perché insomma è oggettivamente divertente ha guadagnato anche più di un milione quindi veramente ci sta se volete qualcuno con cui farla vi lascio il gruppo telegram più grande in italia in descrizione perché appunto lì troverete un sacco di gente che gioca a gta online e sicuramente vi faranno fare soldi quindi se volete un consiglio entrateci vi organizzate magari con qualche amico sarà sicuramente divertente se no entrate in sessione pubblica e c'è gente che invita spero che questa guida settimanale vi sia stata utile mi raccomando iscrivetevi al canale se siete nuovi vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video